BORIDI! Se non lasciate subito un like al video di Oppo, vi sterminerò senza lasciarne neppure uno! Parola di Eren Yeager Ah Eren, grazie per ricordare ai bolidi cosa devono fare prima di iniziare il video Salve a tutti, bolidi, io sono Obugolo e vi do il benvenuto in un nuovo video sul mio canale Quando fai un errore imperdonabile? Immagino che voi vi starete chiedendo come mai, per quale ragione c'è questo titolo e perché in sottofondo c'è un gameplay di Cyberpunk 2077 Per chi non lo sapesse io comunque su Twitch porto anche gaming e ho sviluppato comunque una parte della mia community che è incentrata anche su quello E avendo fatto alcune live proprio su Cyberpunk durante il release date, i successivi giorni ho dovuto smettere di farla per un discorso di malottimizzazione In ogni caso saluto i nuovi arrivati che potrebbero essere arrivati sul canale con questo video Mi presento, sono Obugool, porto comunque anime, manga, videogiochi, mi sto espandendo un po' anche a questo settore E per chi già mi segue ora si trova nel video della playlist Cosa ne penso? In questi giorni ho parlato spesso della questione Cyberpunk 2077 su Instagram con le persone E siccome che mi stavo anche stufando di scrivere proprio a tutti quanti la stessa medesima cosa Ho deciso, vabbè ci faccio un video, vediamo come va Così almeno la gente che è interessata all'argomento può vedere effettivamente il video in questione Per chi non sapesse cos'è successo, Cyberpunk 2077 era un gioco che si attendeva con ansia da tipo 6 anni Io stesso, grande fan dei CD Projekt Red, che è una società, appunto, una software house europea Secondo me è tra le più talentuose in commercio Sono famosi per la saga di The Witcher, The Witcher 3 nello specifico Che tra l'altro sul canale, se voi andate nella sezione video e andate in meno recenti Potete trovare tranquillamente anche la serie E anche sui ragazzi del World 87 ho portato il gioco completo Quindi insomma si parla di veramente tanti anni fa Era il 2014, sì sì, 2014 In ogni caso c'era un hype dietro questo gioco della madonna Perché i CD Projekt Red, oltre ad essere una società molto dalla parte del consumatore finale Quindi del cliente, cioè dalla nostra parte Si è sempre dimostrata una società, una software house incredibilmente talentuosa Quindi l'idea dietro Cyberpunk, un'idea di un gioco veramente lungo nello sviluppo Perché se gli anni non capita spesso di vedere giochi che escono con così tanto tempo Per lo sviluppo in realtà C'era un culto proprio dietro Un culto che negli anni è sempre stato, diciamo, ingigantito dalle tecniche di marketing Usate da CD Projekt Red E lì sta il primo problema Il gioco quando è uscito, è uscito appunto praticamente ai primi giorni di dicembre Adesso non mi ricordo, era il giorno dopo il no stream day Su PC era discreto, da un punto di vista di hardware e quant'altro girava bene Su console di vecchia generazione soprattutto andava veramente male E lì stava il problema Vì, è bello rivederti Io l'ho streammato L'ho streammato sulla mia Playstation 4 Fat Perché purtroppo solo quella Ho in programma di unire due computer Uno da gaming e uno per l'editing Come adesso c'è solo quello per l'editing In modo da streamare praticamente tutti i giochi in futuro Per evitare anche problematiche di questo tipo Perché comunque Cyberpunk 2077 su PC è più che decente Anche se ripeto I problemi, bug, glitch e quant'altro ci sono Ma almeno a livello grafico, a livello poligonale Night City è molto bella da vedere Almeno quello Su console ripeto No, su console è inaccettabile L'errore principale è stato far uscire un gioco così Un gioco così importante In maniera, non dico frettolosa Perché ci hanno messo sei anni a farlo Ma probabilmente gli azionisti E più che altro anche il reparto marketing Hanno mentito spudoratamente al consumatore finale Con articoli del tipo Cyberpunk 2077 gira straordinariamente bene Sulle console di vecchia generazione Quando in realtà sapevano che non era così O quantomeno Probabilmente mancava l'anello di congiunzione Tra gli sviluppatori e il reparto marketing Che comunque avrebbe fatto vendere il gioco CD Projekt si sta trovando in una situazione molto precaria Probabilmente molte persone verranno licenziate La colpa io non la reputo una colpa dedicata allo sviluppatore in sé Perché io non credo minimamente che da un punto di vista così Insomma, i CD Projekt è gente veramente talentuosa Vuoi che non abbiano capito su cosa stavano realmente lavorando? Probabilmente tutti i continui ritardi Erano proprio ritardi Perché al gioco serviva ancora tanto, tanto tempo E non potevano ritardare ancora l'uscita Vi ricordo che è stato posticipato già ben due volte E questi sono soldi che vanno persi Quindi da un punto di vista delle aziende di background Quelle che muovono i soldi e che muovono CD Projekt Nello sviluppo del gioco Hanno continuato a dire Dai, muovetevi a farlo uscire Veloci, al massimo lo correggerete con delle patch Errore madornale Allora, io mi aspetto che CD Projekt Comunque migliori il gioco Lo renda più stabile su console Ma anche su PC ci sono queste problematiche Ripeto, ma molto meno marcate Stagli addosso, non fartelo scappare Su PlayStation 5 adesso tuttora Non c'è effettivamente la versione delle console appunto di current gen Perché adesso PlayStation 5 e serie X e serie S sono le current gen Quelle che tu adesso vedi Con i gameplay vari Sono porting delle versioni su PlayStation 4 Che anche su PlayStation 5 sono un po' instabili Perché proprio il software, il gioco è instabile La colpa di tutto questo, ragazzi, media Chi è da attribuire? È da attribuire alla fretta È da attribuire probabilmente alla community Che lo voleva in tutti i modi In tutte le sales Lo voleva subito Quando in realtà sappiamo che il gioco non era così tanto pronto CD Projekt lo sappiamo Gente molto talentuosa Gente brava a sviluppare giochi su PC The Witcher 3 era molto bello anche su PlayStation 4 Xbox One Sì è vero ma lo vedevi che comunque c'è il core business e il PC per questa software house Quindi io mi domando perché farlo uscire a questo punto Hanno sbagliato secondo me in origine ad annunciarlo per PlayStation 4 E hanno sbagliato in origine ad annunciarlo con così tanto preavviso Creando un'onda di hype che poi non sono riusciti a gestire Perché il carico di lavoro a quanto pare era troppo alto Per le persone che ci lavoravano Qui non si tratta proprio di numeri di persone Ma l'architettura della console Probabilmente era arrivata al limite È vero che esistono giochi del calibro di The Last of Us 2 Di Red Redemption 2 Che spremono veramente tanto le console di Le old gen Quindi PlayStation 4 e Xbox One È vero che esistono Il problema è che qui siamo di fronte a una cosa un po' diversa Perché la CD Projekt si è anche prodigata nella gestione di diverse versioni dello stesso gioco Diverse versioni per old gen, current gen, PC Insomma sono carichi di lavoro che vanno poi a sommarsi Hanno fatto sostanzialmente il passo più lungo della gamba Ma gli sviluppatori io ripeto Non credo per niente al fatto Che non abbiano minimamente avuto coscienza del prodotto che avevano nelle mani La colpa però di chi è ragazzi miei? È di CD Projekt Purtroppo eh Tra l'altro una parte di me Continuerà sempre a supportarli Di fatto adesso fai conto che Sony addirittura ha creato il rimborso La politica di acquisto di Sony è una cosa molto molto importante Cioè tu una volta che avvii il gioco una sola volta Quello diventa tuo Non puoi più chiedere il rimborso Però questa volta probabilmente i rimborsi siano talmente alti Che Sony è stata costretta ad avviare una politica di rimborso Sony ok è stata costretta Si è creato un precedente Non so se vi rendete conto di quello che abbiamo vissuto in questo dicembre CD Projekt non si meritava secondo me questa cosa Con la perdita chiaramente in borsa cos'è il 32% L'altro giorno era una cosa Cioè il CD Projekt probabilmente ha avuto un danno di immagine Come poche altre cose abbia mai visto Forse No Man's Sky ma anche lì No Man's Sky era un altro discorso Che il gioco principalmente era proprio Mancava delle meccaniche di base che avevano annunciato Una cosa che mi fa veramente rabbia di questo Cyberpunk 2077 È che nonostante tutto è un gioco incredibile È bellissimo ma è fatto veramente con il culo Non è possibile che un gioco del genere non vada a 30 fps che è lo standard Ma anzi cali a 15 soprattutto nelle sezioni più concitate Fa veramente ribrezzo sta cosa Proprio vuol dire non averci lavorato abbastanza Io lo so che però loro CD Projekt in realtà da un lato Loro san ci hanno lavorato perché erano sotto crunch Ciò vuol dire che proprio erano spremuti Dovevano stare lì in ufficio anche 12 ore per lavorare Quindi da un punto di vista di lavoro loro hanno lavorato Ma a quanto pare non riuscivano nelle tempistiche Ed è per questo che da un lato cambiando leggermente il discorso E allacciandomi a quello che vi dico di Itail Non dando una data ma continuando a lavorare Non concentrandosi sul marketing Il gioco va avanti È così che bisognerebbe fare sotto certi aspetti Capisci cosa intendo? Mi dispiace veramente tanto per CD Projekt Una parte di me vorrebbe mandarli a cagare Un'altra parte di me invece gli sarà vicino perché li capisco Tutto questo succede quando fai un errore imperdonabile Perché molta gente non lo perdonerà mai Io metti caso che potrei anche perdonare Ma mi ricorderò di questa cosa Come penso tutti gli appassionati Perché un danno del genere è veramente importante Volevo condividere con voi in questo piccolo video Uno spazio un po' dedicato a come mi sento in questo momento Quando vedo questo gioco Vedo questa occasione sprecata Un'occasione che poi tra l'altro è stata sfumata Perché durante le recensioni CD Projekt ha anche fornito La versione migliore del gioco ai recensori Le recensioni che vedete adesso Sono tutti con voti alti Perché avevano il prodotto migliore Avevano la versione su PC Non potevano neanche immaginare Come era la versione su PlayStation 4 E come detto Quando venivano sollevate queste domande Gli si veniva risposto con frasi del tipo Non vi preoccupate Gira straordinariamente bene Eh si è visto Ma la colpa di questo non ce l'hanno gli sviluppatori Ce l'ha chi gestiva la parte marketing del gioco CD Projekt si è fagocitata da sola Hanno sbagliato Spero che questo episodio possa essere Di insegnamento per un po' tutti In ogni caso ragazzi miei Per questo video è tutto Noi ci rivediamo in un prossimo video Domani ovviamente Ora dovremmo anche essere in live Alle 15 Quindi nel caso ci si becca lì In descrizione trovate i link di tutti i miei social E noi ci rivediamo in un prossimo video O in una prossima live Ciao a tutti i bolidi Ehi ciao ragazzi Grazie per essere arrivati fino alla fine del video Sapete che qui ne potete trovare altri Vero? Ciao a tutti i bolidi Alla prossima Dal pelatone più potente che ci sia